Bene, allora, colleghi, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle preposte di legge numero 1142, 1298, 1432, 2229, 2264, 2996, 3391, 3500 norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Di Salvo, Brignone, Zardini, Folino. Allora, chi altro? Zardini non riesce a votare. Grassi. Ci siamo? Sta salendo la deputata? No. Bene, allora, mi pare che... Sì, no, ha votato, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 326, contrari 37, la Camera approva. Grazie.